ciao ragazzi spero tutto bene allora noi siamo ripartiti iniziata la settimana quindi il nostro allenamento te lo ricordo sempre la struttura è warm up riscaldamento strength forza e workout allenamento finale quindi occhio riscaldamento di oggi sono due più due giri dopo di che noi ci vediamo alla forza occhio super mario ti guarda ciao ed eccoci qui alla forza ragazzi quindi oggi proveremo ad usare ancora il bilanciere quindi bilanciere vuoto eseguiremo il power clean non so se conosci sono tecniche di sollevamento o limpiomiche tecniche avanzate dove ci vuole molta molta pazienza per imparare per qualsiasi domanda lo sai mi scrivi sotto tu prova a dargli un'occhiata e ci vediamo al workout ciao in parte finale cronometro alle mani imposta 4 minuti perché su questi quattro minuti dobbiamo fare tre esercizi 200 metri di corsa 10 trasters e 30 sit up quello che rimane di questi quattro minuti sarà il tuo recupero occhio agli esercizi guardali bene se hai qualsiasi domanda me la scrivi sotto noi ci vediamo domani allenati bene ciao 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 Grazie a tutti.